Ciao, sono Sara. Ciao, sono Giovanni. Mi sono appena svegliata, dopo sono andata a fare la spesa che ho comprato delle cose di Natale. È un piacere sapere quello che tu fai tutta la giornata, da bere, qualcosa. L'ho sempre sognato a sapere. Sono nata nell'Akuticomo. Sono nato dentro al mare, dentro. Ma poi come cazzo si fa a pattugliere nell'Akuticomo? C'è la tele? Come cazzo fai? Ma la mia famiglia è di origine terrona. Non dire queste cose, vi prego, è un video di YouTube, subito riusciranno le cose sotto, tipo gli scleri, le bestemmie, perché ho detto terrone, non dirlo. Anche perché io lo sono, quindi non dirlo. Vivo a Londra? Ah, ora ho capito perché questo accento tutto tipo terrone di Londra, si è nata nel lago di Como, giusto? Qualche neurone l'hai bruciato. E vendo i scarpi? Porca puttà! I scarpi! Cioè allora, gli scarpi. Una si chiama scarpa, due scarpette e scarpi. Con questa crisi che c'è, il suo commercio è molto avanzato. sta bene economicamente. Mi piacerebbe una relazione stabile. Almeno una ragazza seria si trova ultimamente. È l'unica ragazza seria che ho trovato che fa un video, quindi già è una cosa molto buona. Ma non troppo. Non troppo, è un mese, due. Dipende da la lunghezza del pisello. Mi trovate sulla pagina di Facebook? Di Facebook? La trovate lì, andatela a cercare. Sara B. di Broccolo, perché a me mi piacciono i broccoli. Io mi chiamo Giovanni A. di Aceto, quindi insieme andiamo bene. Mi piacciono quelli grandi che puzzano proprio, che fetano di Scorage. Ci piacciono quelli grandi che fetano proprio, che fetano di Scorage. La ragazza mi preoccupa molto. E potete mandare il curriculum a Simone Fornasari, che è quello che ci piace, a lui ci piace organizzare tutti i corsi, di appuntamenti e robe varie. Oppure, se non lo trovate, ci lo potete mandare pure alla sua fidanzata, che è quella che vende i smarti. Appunto, l'ho mandata la sua ragazza che vende gli smarti, le vende gli scarpi e si trovano d'accordo. Sono amiche strette, proprio unite proprio dalla nascita, proprio. Vendono gli scarpi e gli smarti. Sì. E vi fa pure lo sconto. Ciao. Ciao. Ho bagnato una stanzetta, mamma mi uccide, mi uccide mamma. Mamma mi ucciderà. Cazzo. Prendiamo una pezza. Madonna che parla a telefono, la cosa più epica del mondo. Aspettate. La tua faccia è interessata.